Lo sapevi che inizialmente Trish Stratus avrebbe dovuto debuttare in WWE con la gimmick di un'attrice a luci rosse? La ragazza sarebbe stata presentata come una collega di Valvinis, diventando la sua controparte femminile. Trish si oppose però fermamente all'idea, consapevole che quel personaggio avrebbe potuto comprometterle il futuro una volta conclusasi la sua carriera nel ring. E alla fine riuscì a spuntarla, partendo comunque dal basso e finendo in situazioni un po' imbarazzanti, ma senza il peso di quell'alter ego ingombrante sulle spalle.